Noi ci troviamo in compagnia della signorina? Francesca Lei ha svolto la carcia a tesoro questa mattina, come le è sembrata? È una bella esperienza, è stata divertente, ci siamo comunque, siamo stati insieme, è stata una bella cosa Ci può insomma spiegare come si è svolta e se è la prima volta che si organizza questa manifestazione? Allora sì, è la prima volta che è stata organizzata da una persona che io conosco e siamo partiti da qua e poi abbiamo fatto il giro per il paese, siamo arrivati al castello e poi abbiamo fatto varie tappe Quante tappe ci sono? Ci sono state? Dieci Ci può illustrare insomma le tappe come sono state svolte? Allora per ogni tappa c'era un indizio, una volta arrivati a questa tappa c'era un cartello dove veniva scritto la prossima tappa dove doveva andare per ogni cosa c'era un indizio, qualcosa che ci facesse capire la prossima tappa Quindi da parte tu è stata anche una bella iniziativa, una cosa positiva organizzata dal comune di Mercogliano e da tutto lo staff Sì, è stata una bella cosa pure perché ci siamo ritrovati vari ragazzi, più persone quindi ci siamo divertiti Ok, facciamo un saluto agli amici di Campania